Ciao amici del canale, benvenuti e bentornati. Volevo ringraziarvi a tutti perché abbiamo superato i 500 iscritti, quindi vi ringrazio. E niente, vediamo come sarà la settimana del maschile e del femminile. Iniziamo quindi dal maschile che l'energia caratterizza il maschile in questa settimana che va dal 19 al 25 aprile. Vediamo un po', eh? 19-25 aprile per l'energia maschile. 19-25 aprile per l'energia maschile. La coscienza. È un maschile che quindi sta facendo un po' i conti con se stesso, sta mettendo un po' sul piatto della bilancia tutto ciò che è stato, tutto ciò che ha subito, tutto ciò che ha fatto. È un maschile che ha intenzione di connettersi con se stesso. A fondo mazzo abbiamo infatti anche la trasformazione. E quindi è un maschile che comunque si rende conto di dover cambiare determinati atteggiamenti, determinate situazioni. Vediamo quindi coi tarocchi che cosa ci dice per l'energia maschile dal 19 al 25 aprile. Io vi ricordo di prendere ciò che vi risuona, perché con alcuni di voi le cose saranno già accadute nelle settimane precedenti, con altri invece succederà questa settimana, per altri la prossima. Quindi prendete ciò che vi risuona, non è che tutti viaggiamo sulla stessa onda. Quindi vediamo per l'energia maschile che cosa ci dice. È un'energia maschile che comunque ha dei problemi anche nel dormire. È un'energia maschile che sa di dover dare dei tagli con qualcosa, con qualcuno. È un'energia maschile che si fa prendere molto dai pensieri. Di nuovo la morte, quindi un cambiamento. Bisogna qui dare, proprio tagliare con atteggiamenti. Probabilmente per alcuni è proprio una questione di lavoro. Con questo 5 di pentacoli c'è un'insoddisfazione o una perdita in ambito laborativo, di denaro. Non si sente più quella stabilità che c'era. Può essere in entrambi i casi, cioè i rapporti sentimentali, come può essere nella vita familiare. È un maschile che sta facendo troppi pensieri, sa che deve cambiare qualcosa, deve dare dei tagli. È un maschile che sa che deve, che è arrivato, è giunto il momento di dover cambiare, di dover trasformarsi. La trasformazione che abbiamo visto prima a fondo mazzo. È un maschile che si sente in perdita. È un maschile che non sente più il radicamenti, le cose della stabilità che aveva prima. È un maschile che non ha neanche voglia di festeggiare. È un maschile che sa che deve comunicare qualcosa ma nello stesso tempo ne ha paura. Sa di dover fare ancora dei grossi lavori su se stesso. Non vuole collaborazioni, non vuole inizi passionali. Ma nello stesso tempo non vuole lasciare andare. Ha anche quei conflitti interni che ha. Vuole diventare ed essere la persona concreta che sa di poter essere. Ma, non avevo dubbi, è bloccato. Ha ancora bisogno di tempo per tirare fuori delle forze. Tutta la sua forza sia fisica che morale. È un maschile che deve lasciare andare delle energie tossiche che ha con questa energia dell'imperatore, questa energia del diavolo. Mi fa proprio credere che si creda di essere l'uomo denim, l'uomo che non deve chiedere mai. L'uomo che comunque ha delle dipendenze sia fisiche che emotive. È un uomo che crea dipendenze. E tutti questi stati sono, questi modi di essere, sono le cose in primis da dover lasciare andare. È un maschile che però vuole amare. È un maschile che vuole, in questo momento non è in grado di avere delle collaborazioni, ma vuole sia nella vita privata che nel lavoro, un giusto equilibrio. Un giusto dare, un giusto avere. Qui è un maschile che si sente di dare, ma non prende. Vediamo invece per l'energia femminile, che cosa ci dicono dal 19 al 25 aprile. Per le energie femminili, che cosa caratterizza l'energia femminile dal 19 al 25 aprile. Vediamo. È un femminile che sta per subire degli shock emotivi. È un maschile, è un femminile, scusatemi, che in questo momento non vede nulla. È come se in questo momento, per chi ha già subito questo shock emotivo, si trova davanti il niente. Per chi invece lo subirà, avrà questo momento di non avere progetti, di non avere... Questo è uno shock emotivo abbastanza forte, mi viene da dire. Può essere in qualsiasi ambito, come per il maschile ovviamente. Adesso andiamo a vedere con i tarocchi che cosa ci dicono di più. Per l'energia femminile dal 19 al 25 aprile. Questa la raccogliamo, che ancora non avevo fatto la domanda. Energia femminile dal 19 al 25 aprile. È un femminile che vuole amare. Si vuole allontanare da quelle pesantezze, probabilmente anche da un rapporto. È un femminile che ha bisogno, che aspetta comunicazioni. Il rapporto può anche essere lavorativo. È un femminile che al momento non pensa che sia il momento giusto per raccogliere i frutti del suo lavoro. È ancora un po' in attesa anche questo femminile. Vuole abbassare però le sue difese. Vuole incominciare quindi a ritornare ad essere la donna amorevole che è. È un femminile che si vuole allontanare anche da ogni tipo di situazioni che non le danno abbastanza, che le creano pesantezza. È un femminile che sta cercando di trovare il giusto equilibrio. È un femminile che sta facendo anche molta introspezione. È un femminile che vuole ritornare nel suo... Uguale, questo bellissimo imperatore. Diciamo che sta un po' stufata anche sta donna di dover chiedere questa energia femminile. Sta un po' stufata di chiedere... Si vuole un po' allontanare da determinate pesantezze. È arrivata alla conclusione che dei cicli di vita devono finire. Stanno per arrivare comunque piccole offerte. Io direi che va sia sul lavoro che nella vita sentimentale. È una donna che è un'energia che comunque non si sente completamente appagata. Sa che ha bisogno ancora di tempo perché la luce torni completamente nella sua vita. È un femminile che non vuole più annoiarsi. È un femminile che comunque sta vivendo qualcosa di instabile. Non ha più neanche il femminile quella stabilità. Ma diciamo che secondo me con quello shock emotivo è già avvenuto tutto. Nel senso che con questo nove di spade al contrario mi fa capire che è un senso di vuoto, un senso di malessere, un senso di tristezza, di dolore che vuole lasciarsi alle spalle. È un femminile che vuole progredire, sa quanto vale. È momentaneamente un po' in disequilibrio. Sa quanto vale e vuole tornare ad essere ciò che è. Vuole avere degli inizi passionali. Questo sia sul lavoro che nella vita privata. È un femminile che vuole avere questi inizi dopo tanta sofferenza. Crede ancora nei suoi sogni, nei suoi desideri. E li vuole realizzare. È un femminile che comunque con... E questo mi si associa benissimo con nessuna cosa. È un femminile che vuole connettersi con se stessa. Non pensare a nulla. È un femminile che non sta progettando. È un femminile che sta facendo in modo che i cambiamenti arrivino piano piano con i giusti tempi. Qui non escludo che per il femminile arrivino contatti da un passato che lei è stato cercando di tenere distante. Ripeto, può andare bene sia sul lavoro che nella vita privata, nella vita sentimentale. È un femminile che sta cercando di lasciare distante con ciò che è il suo passato per poter progredire. Ma in realtà questo passato si farà di nuovo avanti. Questo in qualsiasi ambito. Perché comunque c'è questo successo personale al contrario che quindi mi fa capire che vale in tutti gli ambiti. Mi fa anche capire che è proprio un qualcosa che in passato gli aveva proprio creato un senso di benessere che al momento vuole tenere distante ma non riesce. Ma non perché non vuole ma perché questo passato rincomincia a bussare alla porta. Con questo è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Io vi ringrazio ancora. Se avete bisogno di vedere le vostre situazioni personali scrivetemi una mail a tarocchipolveridistelle chiocciolagmail.com Al prossimo video. Ciao ciao.